Studenti, protagonisti del racconto della storia Fumetti per ricordare la storia del comune di Battipaglia legato a doppio fila al territorio. Ha appassionato i giovani studenti nella conoscenza della tecnica dell'illustrazione dell'Istituto Comprensivo Statale Guglielmo Marconi di Battipaglia. L'iniziativa è ideata e promossa da Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, indirizzata a tutti gli alunni delle scuole primarie di Battipaglia per consegnare loro l'eredità culturale e storica della città e pensare di sviluppare insieme una visione identitaria e più consapevole del futuro. Partendo da una pubblicazione del 1999 a spasso nel tempo realizzata dalla cooperativa Tutti i Servizi, grazie all'esperienza dell'architetto Angelo Liguori, gli studenti sono entrati a contatto con il mondo del fomento e per imparare a pensare in maniera visuale, sviluppando una maggiore consapevolezza e un apprezzamento per l'arte e la storia della città di Battipaglia. Un incontro a scuola di fumetto, la storia della città per disegnare il futuro, nella sede della scuola Marconi, alla presenza dei piccoli studenti della primaria, ai quali è stato consegnato il fumetto a spasso nel tempo.